La scuola di alta formazione permetterà di avere quegli strumenti, quella preparazione per interpretare naturalmente le analisi cliniche e mettere insieme quei dati per interpretare al meglio anche il report del test S-Drive. Noi sappiamo oggi che moltissimi strumenti sono a disposizione del professionista per fare una diagnosi oppure per dare suggerimenti clinici oppure per cambiare la dieta oppure per ottimizzare la nutraceutica che serve al paziente. Sicuramente una delle opportunità più straordinarie che abbiamo è quella di utilizzare la tecnologia S-Drive che in solo 12 minuti ci permette di mappare le specifiche esigenze e i bisogni della persona oppure capire quali sono le interferenze e quindi i danni da inquinamento a livello cellulare con la persona. Quindi sempre una medicina centralizzata, personalizzata, individuale, funzionale a scopo preventivo e di supporto e soprattutto anche la possibilità di interpretare il report e sapere cosa fare quando dopo 12 minuti arriva un report della persona per consigliare il trattamento giusto al momento giusto a scopo preventivo e di supporto. Una rivoluzione nel campo della medicina.